Scrivi la molecola dell'ammoniaca utilizzando la struttura di Lewis. Allora, l'ammoniaca ha formula NH3, l'azoto ha 5 elettroni di valenza, con gli atomi di idrogeno, forma 3 legami covalenti. La differenza di elettronica e la rività non è molto elevata, non la vado a controllare, sono dei legami covalenti polarizzati sull'azoto. Qual è la geometria della molecola dell'ammoniaca? Ha 4 doppietti secondo il modello WSPR, sono orientati nella spazio con struttura tetraedrica. Questo perché il doppietto solitario esercita la repulsione. Ecco la molecola dell'ammoniaca con la sua struttura che ha una geometria molecolare piramidale, perché sono 4 atomi messi a forma di piramide, l'azoto sta alla vertice della piramide. La geometria orbitale, cioè tenendo conto anche dei doppietti, è tetraedrica. Mostrando i doppietti, eccolo lì il doppietto, si vede il tetraedro. Vediamo gli angoli di legame, sono 107,8 gradi. Questo perché il doppietto ha una forza repulsiva superiore ai doppietti di legame. Il doppietto libero di non legame respinge di più. Infatti il modello teorico porta degli angoli tutti uguali di 109,5 gradi, mentre quello reale, quindi anche questi non visualizzati nei confronti del doppietto di non legame, quello reale invece sono un pochettino più piccoli. Ed è la molecola ottenuta per reazione con ione H+. Allora, se questo doppietto libero va a legare uno ione H+, facciamolo di un colore diverso, uno ione H+, compie un legame dativo con il doppietto dell'azoto e diventa perfettamente tetraedrico con una carica positiva che si va a collocare sull'azoto centrale perché ha donato un elettrone. E a questo punto succede che la molecola che ha una struttura che aveva, della monica che aveva una struttura molecolare piramidale trigonale diventa tetraedrica, anche la molecola diventa tetraedrica. E qui non c'è l'ho il NH4+, però ha la struttura del CH4+. Sì, diventa così, perfettamente, solo che al centro, invece di esserci il carbonio grigio, come in questo caso, c'è l'azoto e l'azoto, il catione azoto, con una carica positiva. Ma è perfettamente tetraedrica, quindi, mentre l'NH3 ha una struttura piramidale, l'NH4+, ha una struttura tetraedrica, la molecola ha una struttura tetraedrica, la geometria orbitale, anche per l'NH4 e l'NH3, anche la geometria orbitale è tetraedrica, la geometria molecolare è invece piramidale.